E adesso sta per arrivare un nipote d'arte. Allora, il prossimo 15 giugno, uno dei volti più amati del cinema italiano, avrebbe compiuto 100 anni. Lui, insomma, il mito in questione, l'avete capito, è Alberto Sordi e noi oggi abbiamo invitato Suo nipoter. Igor, ho detto nipoter per un motivo, perché lui si chiama Igor. Igor Righetti, vieni da me. Mi piace molto, un saluto anche al pubblico, sempre all'orientale, non poterti dare un bacio, è veramente quasi un peccato. Però noi, grazie alla televisione, ricordiamo a casa le misure da tenere a distanza, di non toccarci, di non baciarci, sono regole fondamentali. Avete visto, abbiamo cercato anche di farlo con Patrizia e i suoi figli, anche se vivono nella stessa casa, ma proprio per ricordare a casa che bastano queste regole. Importantissime. Per poter uscire da questo periodo così difficile un po' per tutti. Pensate che sacrificio, però lo stiamo facendo. Esatto. Io soprattutto. Esatto. Allora, Igor, Alberto Sordi segreto. Ma zio adesso non si arrabbierebbe? No. Che racconti tutte le sue cose, eh? Anzi, perché lui ci ha sempre detto una cosa a noi parenti che siamo stati più vicini a lui. Mi raccomando, una raccomandazione. Finché io non sarò in orizzontale, perché lui era abbastanza così, no? Sulla morte, non ci teneva tanto a pronunciare questa parola. Finché non sarò in orizzontale, evitate di raccontare i fatti nostri e dei nostri cari. Quando, quando sarà, allora sì, mi farà anche il piacere. Anzi, perché così mi ricorderete ai miei tanti estimatori che tuttora lo adorano. È come non amare Albertone, che non va detto e dopo ti dirò. L'ho fatto apposta adesso. Albertone no, eh? No, poi dopo ti dico. E l'ho visto che mi devi dire un sacco di cose. Ecco, e poi appunto alle nuove generazioni. Ecco, ricordarlo. Vediamolo subito mentre canta. Grazie.